Qui abbiamo la fiera dentro Palazzo Ducale degli editori minori, come vedete ci sono tantissimi pugliesi editori, tantissimi libri e tantissime edizioni particolari. E' veramente grande, enorme, veramente grandissima. E dunque per grandi e per piccini c'è la possibilità di vedere queste edizioni che sono edizioni particolari. Grazie. E' veramente gigantesco, dentro è tutto Palazzo Ducale, ci sono tantissimi banchetti con tantissimi editori. Qui c'è la possibilità di andare a visitare lo spazio aperto Ducale. Ho visto solo una piccola parte, adesso pensavo di andare a seguire l'altra. La casa Luzzati, qui c'è tutta la parte Luzzati, qua c'è tutta la parte altre edizioni minori. Vediamo di raggiungere adesso la rappresentazione di Colombo. Qui c'è tutta la parte Luzzati, qua c'è tutta la parte Luzzati, qua c'è tutta la parte Luzzati. La parte, diciamo, della cattedrale è fatta veramente molto bene. C'è tutta la parte bella dei ballerini. Vediamo un pochettino come sono. Sembrano brasiliani o qualcosa di simile. Si sono uniti al corteo. Sono molto carini. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungerli e vederli. Grazie a tutti.